felice regresso figli della me non saluti, maleducato così no è così che si incastra buongiorno tutti questi gesti felice regresso buongiorno a tutti quanti ragazzi siamo qui con il dottor grido dopo che si è venuto l'anno scorso a trovarci e sono tornato come è possibile questa cosa? mi ha lasciato quel cappellino che nel frattempo non c'è più infatti me ne sono portato un altro bene, il dottor Barlo e in regia come al solito il dottor Morden ehi dottore in animalistica ora prima di cominciare volevo ricordarvi tutti quanti che questa sera alle 21.30 rifaremo l'ascolto di Rockstar di Spera e Basta in live per il Back in the Days quindi alle 9.30 tutti collegati su Twitch di questa piattaforma per chi la stasse vedendo su YouTube mi raccomando commento like condivisione delle parti più importanti e soprattutto ricordatevi che queste live si fanno alle 14.30 di martedì e di giovedì su Twitch 14.30? non sono più le 3? 13.30 16.15 numero a caso abbiamo perso tutto il pubblico bellissimo video applausi per il grido signori grazie grazie se hai lasciato la cameretta hai trovato uno studio televisivo ho trovato un'altra hai capito? vi siete messi giù bene hai visto? avete fatto i soldi non ve lo scrivono avete fatto i soldi no perché lo sanno che tutti i soldi che abbiamo fatto abbiamo investito per questo è finita anche avevate fatto i soldi minchia abbiamo detto cosa facciamo? ci giochiamo alla SNAI come ai vecchi tempi o li investiamo nel nostro lavoro? vedete quando invecchi che scelte che fai? un saluto a tutti i ragazzi in chat che se vogliono possono partecipare alla live facendo le loro domande su appunto twitch e niente l'abbonamento è sempre ben gradito per supportare il canale e iniziamo subito ah ma c'hai il trick per tenere l'altra casa come sai? è quello di shade lui non lo sa se la gente pubblicizza il suo nome così però va bene senti una roba allora? non so da che parte girarmi ecco qua sulla cosa allora è tutto bene guarda ti faccio fare un giro dello studio insomma come parte di lei che è un po' stretta bene com'è andata da quando ci siamo sentiti l'ultima volta? ho fatto tanta musica e sono uscito con un disco davvero? nel frattempo non l'avevo ancora fatto quando sono stato da voi esatto era nel momento in cui le stavo scartando tutte le canzoni era il momento no era il momento no era il momento voglio arrivare più in là voglio fare meglio ah quindi hai tenuto quelle belle in questo disco? non si direbbe non si direbbe no adesso ho tenuto quelle che piacciono a me quelle che che sono quello che volevo fare prima ho sperimentato un bel po' e non mi piaceva la roba quindi ho fatto tipo 6-7 mesi a fare un sacco di musica ma poi buttarla via c'è messo una fina è brutta sta roba però che sono cioè se parlo con te do le spalle a lui faccia così tipo camera puoi metterti dietro guarda che puoi mettere un indietro vuoi arretrare un po' così hai il cono visivo con un occhio guardo bravo che si sento camaleo già sei guido tutto allora non ti è andata giù sta roba di guido è rimasta lì quanti chiedono di guido a me spiace che sto giro non c'è dolce nera ma ieri suonava ma non potrebbe spuntare fuori da qualche parte no è una spaccata merda quali domande sono quelle che dobbiamo fare per non essere bannati non ci sono nessun tipo di problema basta che non ci sono bestemmie e parolacce perché altrimenti il bot non vi fa vedere la domanda quindi è un bot cristiano esattamente cosa che ho fatto con la croce vola lancia i chiodi quello che volevo immagini per tornare domani la maglietta qualcuno sta già facendo la grafica della maglietta allora sai quella di Xina non si ferma più no se tu dai corda io voglio parlare di cose serie dimite le acque le rifiune hai chiarito con Marra si no sono preso bene da sta cosa in realtà no ma entrambi ci siamo detti alla fine che allora innanzitutto c'eravamo non mi ricordo più che anno era tipo 2016 quando ci siamo scappati vabbè ci siamo rincontrati lui è venuto verso di me ci siamo salutati entrambi ci siamo detti la stessa cosa guarda ci siamo punzecchiati perché era un periodo che avevamo già le nostre pare di nostro quindi eravamo tesi quindi lì è bastato poi con i social sai non si capisce mai veramente il tono fino a che punto arriva così abbiamo reagito come due commesse isteriche entrambi poi invece ci siamo ribeccati adesso qualche giorno fa tra l'altro sui social non si capisce mai il tono sei un bambino coglione del cazzo è quello infatti poi dopo tutto il discorso di riappacificamento alla fine ho detto vabbè dai mi sono preso del babbo a uffo si però sono cose sono cose vecchie che secondo me sono anche robe che lasciano un po' il tempo che trovano ma poi sai che cosa io veramente su quel momento l'ho fatto in maniera ingenua cioè sia il mio commento sia a cominciare poi nelle risposte così non avevo per niente dato peso a quanto può essere poi amplificata la cosa sai fai altre fai mille altre cose e poi quella cazzata invece viene riportata in un milione cioè rimane nella memoria è un po' un po' l'altro lato dei social purtroppo veniamo da un periodo in cui il social è poi l'ultima noi siamo facciamo altro io no personalmente però penso il cantante faccia altro non è uno showman da social network non è uno youtuber alcuni alcuni sono solo quello alcuni sono solo quello e poi a livello di pezzi sono le canzioni da youtuber vere e proprie però gente che comunque non vive prettamente la sua vita sul social network sì ma anche perché che angoscia che ansia io vedo che un sacco di quelli che lo fanno conoscendoli personalmente ce ne sono alcuni che vedi sembra veramente una vita naturale no condivisa invece c'è dietro un'ansia uno studio una roba che io ci impazzia ma quando le major poi ci mettono nella bocca quando dice no tu non pubblicare questo diventa anche una cosa proprio tanto poco cioè tanto impersonale e quindi cambia totalmente l'idea di social di profilo personale cioè diventa una pubblicità costante anche quando vedi che non hanno niente da dire e si fanno solo le storie dove stanno zitti e fanno così perché magari hanno per il contratto un tratto di storie al giorno alla settimana e allora si fanno le storie dove non dicono niente camminano e si fanno sta storia però gli sgami perché alcune cose cioè io tipo non ho mai capito sai la foto quella tipo relax time la coppietta sul divano cazzo ma c'è un altro che ti sta facendo la foto c'è la luce c'è la lampadina messa dietro colorata uno si rilassa sai che ci sono anche delle coppie che pagano dei guardoni perché ci piace si rilassa è come quello è il cameraman del film porno esatto nessuno ci pensa ma c'è il cameraman è l'occhio esterno esatto che poi quando se ci pensi realmente mentre stai guardando il film diventa tutto innaturale no allora sono più belli quelli pov con il cellulare no perché non è che c'è solo il cameraman ci sono le luci i microfoni la regia c'è la truccatrice c'è la truccatrice c'è la microfonista c'è la microfonista è il lavoro che voleva farlo da giovane credo ebbene sì più tu no io io volevi farlo allora senti la cosa eh a proposito appunto di major ma facciamo così spariamo cazzate per un'ora adesso arrivano le domande ma sono anche domande di ragazzi che sono tante interessanti poi ci sono domande che abbiamo fatto anche io e lui che ogni tanto volevo metterne una quindi adesso tu sei sotto major sei indipendente sei mezzo e mezzo io sono indipendente perché il disco è prodotto da Willy Lorbo che l'etichetta mia è di Axe e sono distribuito da Sony quindi sono mezzo e mezzo insomma mi arrangio decido io cosa fare e poi cerco con chi collaborare come amplificare la cosa ok ok però sì ormai dopo tutti questi anni però nel 2020 essere indipendente non è come essere indipendente nel 98 o nel 2005 non è scontato in che senso che secondo me ora come ora i mezzi per essere indipendente riuscire a portare la propria musica a livelli alti ci sono comunque vabbè sì dipende io lo faccio perché mi trovo bene così cioè non non ci sto a farmi imporre come fare un disco le tempistiche cioè io devo avere il controllo totale della cosa poi dopo ovviamente cerchi come ti dicevo i partner per cercare di dare risonanza alle cose però se per fare questo devi farti imporre come deve essere fatto il disco con chi farlo eccetera eccetera ma anche i tempi come dicevi prima tu hai avuto un tempo abbastanza dilatato per la scrittura e la scelta anche dei contenuti del disco cosa che esatto roba che invece se sei direttamente measure e lo dovi nei bidoni attenzione attenzione adesso lo facciamo bene vedere sì ma scartalo però no no perdono il valore ma che cazzo scarti mi zoom il disco per favore guardalo la copertina è molto figa grazie sembri molto figa cosa mi sta rappresentando te che stai marcendo cosa succede no è fango e diamanti quindi c'ha esatto diamanti e fango che poi i diamanti ti ingannano cioè c'è la collana quindi ti richiama l'occhio i diamantini però il vero diamante nella copertina sono gli occhi che sono molto più osuri ah e qua mi risponde alla domanda che faceva un ragazzo che è stato all'in store e diceva noi all'in store ci hanno chiesto cosa significa diamanti e fango per te cosa significa diamanti e fango significa partire dal basso e arrivare in alto e poi è un'immagine con cui secondo me si può racchiudere una moltitudine di cose la mia vita la vita in generale cioè un concetto espresso nei confronti della vita la vita è fatta di cose pure preziose e di merda di situazioni difficili in cui devi scavare quindi se la osservi nella sua totalità è questo non può essere solo una cosa o solo l'altra e poi appunto perché dal basso arrivare in alto perché io mi sono messo a fare un po' sai ormai sono un giovane padre sono arrivato al momento in cui ho tirato un po' di somme e mi sono accorto che un sacco di cose preziose di momenti belli di ricordi belli li ho ottenuti partendo dalle difficoltà quindi i diamanti spesso sono frutto del cercare nel fango del farsi il culo quindi era un'immagine che secondo me descriveva pieno la vita me stesso la mia musica mi piaceva diamanti a fango infatti la copertina è così proprio perché è subito l'immagine io sono ricoperto di fango meglio fatto di fango e poi c'è qualcosa di prezioso che ti tiene insieme tra l'altro mi chiedono chi è che mi ha fatto il 3D della grafica non è un 3D quello è un make up vero sono proprio truccato quanto ti sei divertito è uno scatto fatto e finito ma più che divertirmi sono dovuto rimanere fermo tre quarti d'ora e poi non avevo più potere di mimica facciale cioè prova a sorridere prova a fare no niente non posso provare a fare niente senti eppure nonostante la traccia con Seawit che salutiamo che anche lei è diventata mamma madonna si tra l'altro ha fatto delle registrazioni nel disco allattando cioè non le potrò mai condividere non potrò mai però è stata una delle cose più emo telerissimo ma anche molto anche molto sai cosa si dice la baglia calabrese che va a lavoro che lo riesce sempre a togliere diamanti e fango a una qualunque immagine diamanti e fango cazzo sei lavoro Seawit che è la sinna di fuori allora non lo so eppure nonostante il featuring con Seawit che salutiamo sia diamanti e fango tutti i colori racchiude anche questo concetto di visione della vita tutti i colori quelli belli quelli chiari quelli freddi quelli scuri e tra l'altro è anche secondo me una delle top 3 più belle del disco quella l'ho fatta proprio in super scazzo quella è nata giocando in studio con Shock sai perché? perché giocavi ti sei divertito è uscito una cosa bella io però in questo disco voglio chiederti la prima domanda un po' stronza è un ribadire il disco vecchio che era un segnale di fumo? no secondo me no perché ovvio il mio il fatto di mettere tanti contenuti ce l'ho da sempre non riesco a fare diversamente io non riesco a fare un disco monotematico o a svuotarmi i contenuti dal punto di vista musicale qui invece e da lì è nata la cosa di buttare via molte canzoni prima avevo l'intenzione di dare un'identità più decisa di fare qualcosa che sempre avesse diverse influenze ma che fosse più un suono mio fosse qualcosa di riconoscibile e più attuale e secondo me in questo disco è riuscito questo trick mentre i segnali di fumo non me ne ero proprio preoccupato c'era più l'effetto compilation c'erano tanti suoni diversi tanti approcci diversi invece questo disco è molto più uniforme nell'atteggiamento e nel sound che è venuto fuori nel suono perché è molto è un concert quasi concettuale il modo di suonare delle tracce il modo di raccontare sulle tracce della tua vita eh ma perché ho voluto fare non ho voluto sconvolgere quello che già facevo ma ho voluto farlo meglio sì poi secondo quella che è la mia visione hai svecchiato hai svecchiato molto non come flow perché giustamente anche come diceva Gioielli un rapper degli anni 90 ha il suo flow ed è quello perché è la nostra concezione così lo riconosce quello e non ce ne frega di avere mille flow ma com'è proprio attitudine c'è il pezzo che hai fatto un po' più sulla trap alla sfera per dire che può richiamare e altri invece molto più boom bap perché a scuola con Nerone il pezzo con Nerone dove parli che la fregna come antistress Nerone è fortissimo Nerone sì poi salutiamo tra l'altro quando vuole è invitato non è che devo chiamarti tutti i giorni il pezzo con Nerone per il mio gusto personale fa cagare no è il migliore del disco perché c'è l'attitudine di rap si esce proprio al cento per cento ma sta tornando quella roba dai poi appunto non so se è vero che nelle metriche non c'erano sì certo c'è l'identità io rappo così c'è quello che mi piace però ho fatto tanti trick nuovi mi sono divertito c'è quella roba mezza trappona che hai fatto happy trap a un certo punto non mi ricordo che tutti i colori quello che dice lui ma poi anche quello dove ho fatto più crash veramente in questa cosa è Isola che è col campione di I Need Love che è già una figata sono stato il primo al mondo a cui hanno dato quel campione e non sono stato il primo ma non ero il primo ad averlo chiesto quindi c'è questa cosa bomba e su quel pezzo a maggior ragione con un sample così vecchio ho detto ok ho con shock ho detto facciamo proprio la ritmica New Wave io sopra ho detto voglio fare delle metriche che siano le più fresche del disco è venuto fuori un crash mentale che però ha funzionato quando si è messo insieme nel pezzo ho detto ok proponiamoglielo vediamo se ci dicono ma infatti ci hanno detto di sì non trovo un pezzo debole nel disco non lo so di tutti i colori sia quella un po' sciallona a me piace a me ma ci sta ti la giudichi un po' meno cioè sciallona però guarda le produzioni non solo shock chi è che ha aiutato? shock shock scusa ho detto shock mastermind rufio vabbè mastermind kermit kermit il pezzo in cile e poi vabbè zangirolami che ha lavorato con tutto il mondo del rap senti una roba parlando delle produzioni ma non della base insieme ma del mood tu immagino che quando ti sei messo lì con i tuoi produttori che salutiamo hai detto lo voglio così la voglio così mi piace di qua di su e di giù senti una roba tu hai detto lo sto sperimentando ma queste produzioni le hai fatte strizzando un po' l'occhio a una possibile passaggio in radio o questi suoni morbidi un po' un po' così molto molto no poco aggressivi ormai ti giuro non ci penso quando faccio un disco non ci penso a dove andrà cosa farà cioè veramente non riesco diventa una castrazione per me pensare a come vendere quello che sto facendo quindi è una roba che piace a te questa roba piace a me e poi io lo trovo io cercavo qualcosa che suonasse emozionale suonasse epico ma che avesse le palle sotto quindi senza per forza dover andare a fare la roba incazzata ma che fosse grosso che avesse i coglioni sotto ma infatti a livello di testi niente da dire molto non epi scusa è molto pro life è molto positivo no però io l'ho trovato come sonorità morbido quindi se tu hai un cd con un suono morbido e in più un testo pro life nonostante i dissing le frecciatine e le cose che ti ho detto ma poi lui dice che non ci sono dissing e frecciatine ma perché lui deve sempre fare raga andate c'è su spotify c'è c'è su spotify anni 90 ha fatto i cd e i vinili e basta i vinili e i cd ma anche le cassettine le cassettine anche su spotify io non vi dico in quale però ci sono un paio di frecciatine che manca solo ma non sono le frecciatine sono concetti sono concetti sono concetti ho capito si sono concetti hai detto anche c'è scritto satira ho scritto il fondo vedi l'orca sono i music satira vabbè vabbè mi vuole far dire che ho fatto le frecciatine va bene va bene copino scusate ecco però mi aspettavo una cosa della serie intanto mi manca la canzone sull'essere patm tu come tutti ma l'ho già fatta come tutti i trentenni italiani ma l'ho fatta nel disco scorso nasce il bambino lo fotta la mamma e lui non si occupa più finché non diventa no non è così anzi guarda le occhiaie lo porto io mio figlio all'asilo ci manca come se sveglio presto la mattina ma io mi sveglio presto sai in quanti si stupiscono cosa ci fai sveglio alle otto che sei un rapper a portare il mio figlio all'asilo c'è la vita cazzo vivo bene domande si scusate allora seguito una voce bellissima i fit del disco qual è il tuo preferito domanda cazzo qua è come se chiedi vuoi più bene alla mamma al papà vabbè allora quello con axe per me è un pezzone poi dico le cose di parte non preferito facciamo il più sentito quello che senti più vicino sicuramente quello con axe lo sento tantissimo perché era un po' che volevo fare un pezzo con lui non solo per divertirci ma per fare qualcosa che fosse amplificato dall'essere fratelli cioè qualcosa di profondo e e sto pezzo è venuto una figata secondo me poi quello che mi gasa proprio ascoltare è quello con Sergio Silvestre ok quando mi rimetto sul disco c'è una potenza vocale Sergio che ti spettina e invece quella col Cile io la trovo veramente un sacco radiofonica e diglielo ai programmatori della radio adesso chiama WAD no ma io ormai ma anche lì io ormai non so più valutare cos'è radiofonico o cos'è no cioè sento delle robe che dico cazzo questa è una hit radiofonica e poi non le sento in radio e viceversa sento delle robe in radio che dico ma perché stanno passando sto pezzo no perché per quanto riguarda le sonorità del pezzo ok ma il Cile è come sembra il Cile di qualche anno fa cioè quando quando avevo anche questa è vita la fottaglia di fare infatti l'ha menata giù l'ha spaccato l'ha spaccato l'ha spaccato l'ha spaccato perché cazzo grido c'hai questa roba che non riesco mai a inquadrarti perché hai testi che comunque non le mandi a dire sono concetti cose retorica però messa giù bene pezzi dove prendi delle frasi cioè da ragionarci anche se si possono fare dei discorsi di un'ora no e poi su questi suoni comunque morbidi che fruibili assoluti sì perché io voglio che spacchi no no io a me piace la roba dura ma è un gusto mio personale sto arrivando alla domanda perché uno dice perché 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 cosa non so io ho fatto la domanda se te non mi rispondi ma perché cosa non sto capendo raga è una trollata sì certo perché mi piace no perché mi piace perché perché ho scelto perché faccio così e non roba più incazzata perché mi piace perché ma a parte che poi secondo me i testi non sono molli non sono capito non è top quello che fai ma secondo me è anche anche la dimensione cioè tu te lo ascolti in cuffia ti sembra più introspettivo te lo ascolti in un live con il suono che ti aspettino magari diventa più potente di quanto ti aspetti perché se io dovessi solo leggere i testi io mi immaginerei sotto una roba crossover invece poi lo sento e come dice lui ha dei suoni molto molto belli molto nuovi fruibili radiofonici e quindi mi spiazza sta cosa hai capito è come mangiarti che cazzo adesso ha il plum cake alla banana e col bacon buono sì che buono ci fanno più molto rapinamento comunque anche sta cosa del no comunque la risposta è perché mi piace perché perché mi piace punto perché cerco qualcosa che ti stimoli determinate corde emotive anche a partire dal suono cioè a me piacciono tipo le colonne sonore di disney mi piacciono le robe orchestrali mi piacciono dall'opera i film degli anni 80 perché avevano le colonne sonore devastanti e quindi vado a ricercare un po' quell'emozione lì non lo so il fatto di fare le robe con la cassa dritta col suono distorto per forza perché così fa subito aggressivo e cattura l'attenzione per i primi 10 secondi la domanda in realtà è che l'ho fatta perché perché io so e lo sento che tu hai anche un taglio aggressivo cioè tu hai dei pezzi che in Italia gli altri rapper se li sognano eppure non li fai mai vedere questa è una cosa che è la personalità è la tua personalità no? cioè hai un sacco di roba che però passa cioè se non ti fermi e forse proprio per questo che lo fai se non ti fermi forse perché io sono così anche più anche magari un pezzo come tutto normale dove io in realtà mi incazzo che figo quello mi critico non lo faccio sbraitando io sono delle idee anche proprio nella vita cioè uno si può anche incazzare e cercare di rimanere equilibrato e cercare di farsi valere senza bisogno di sbraitare urlare alzare le mani musicalmente è un po' questa la cosa cioè non devo per forza venirti in faccia con i suoni distorti e la roba aggressiva ma posso dire che io ragazzi cioè non vedo tutta questa criticità nel scusate tutto questo problema nel suono del disco perché a me allora ricordiamoci sempre che ci sono varie fasi sia nella vita che nella giornata dove poter ascoltare un disco e le films cambiano cambiano proprio anche se non ascolto un disco mentre lavoro e mi piace sentire delle concettualità sarà sicuramente un disco come il tuo che hai fatto uscire se lo ascolto il pomeriggio con gli amici è ovvio che magari ho più difficoltà ad ascoltare un disco più mio come posso spiegarvelo è proprio una questione no ma poi veramente dipende anche dalla dimensione in cui lo ascolti lo stesso disco cioè io sono dell'idea che in questo disco ci sia talmente tanta musica adesso non è per menarmi ma è così è verissimo cioè c'è più musica in due pezzi miei che a volte che in tutto un disco no ma ci sono delle produzioni serie sul disco non stiamo parlando di produzioni ma infatti questo poi sfocia nell'ultimo pezzo che si chiama meno male che per me cioè nella mia concezione è un musical di tre minuti cioè talmente tanti momenti e tante influenze parte con la chitarrina punk per arrivare fino all'orchestra passa per la ritmica trap cioè eppure poi tutto coesiste dopo che ti sei sentito il disco quella roba lì ha tutto senso certo e quindi dipende anche dalla dimensione se tu lo fai lo ascolti in uno stadio ovviamente verrà amplificato esatto da tutto questo e avrai degli elementi da mettere in come si dice in risalto per far diventare più potente o più romantico il momento certo poi dipende perché ieri stavo giocando qua a videogioco ascoltavo tutto normale che cazzo ha un testo che era la denuncia sociale quella che minchia sembra che la deve fare solo salmo e però cioè io dicevo cazzo vai vai no perché io sono io adesso ti faccio una versione a 20 bpm in giro ma non è una critica la mia il mio è proprio farti capire che uno come me che quando ascolta un disco rap la prima cosa che ascolta sono le parole perché è rap e le gente che fa le parole cioè non è che siamo qua suona la chitarra io e te poi abbiamo quelli che fanno le basi e sanno di musica però io che ascolto prima le parole io sento dei testi capito e quindi perché li ascolti allora durante la scrittura del disco mi chiede manzuttino hai avuto dei periodi negativi chiedo perché il pezzo a testa alta è molto pro life sì assolutamente se li ho avuti prima della scrittura del disco e durante la scrittura nel senso che non ero soddisfatto di quello che stavo scrivendo non mi piaceva non era un focus e poi nel ricercare questa spinta qua mi sono cioè c'è un concetto quello del pro life che poi si ripercuote un po' in tutta la scrittura del disco ma perché sono arrivato alla conclusione che se stai lì a lamentarti a piangerti addosso comunque rimani sempre lì nel momento in cui riesci ad avere un approccio positivo e voglia di di affrontare le sfige perché le sfige le difficoltà le cose ci sono sempre assolutamente se tu questo non lo metabolizzi e non lo accetti farai una vita di merda nel momento in cui tu dici ok la vita è fatta di sfide e io le devo affrontare con il sorriso sulla faccia la vita dimmigliora certo e quindi anche questa cosa è diventata musica per me perché io poi comunque non sono personale non ho una maschera non ho un personaggio cioè quello che sono io nella vita diventa la mia musica e quindi è stato automatico non c'è filtro tra vita reale e musica anche il pezzo che hai fatto dentro questo pezzo dove parlare del bullismo della scuola della gente che mi è rimasta quella rima che dice c'è gente che punta il dito però non punta in alto non l'ha mai puntato in alto resta un fallito e rompe il cazzo agli altri come gli arcade boys per dire vedi una delle tante infleccioni no non è vero invece voi puntate in alto e come bro però vedi che io il dischio li ascolto non è che invece e comunque perdonami si hai ragione a testa alta è stato proprio il pezzo che ha dato un po' quello switch cioè quando ho scritto testa alto ho detto hai sbloccato vado vado in questa direzione ma anche emotivamente mi ha risollevato prima parlavamo degli anni 80 dei campioni della musica dei film un ragazzo mi ha detto quanto ha influito i Goonies nella scrittura di questo disco i Goonies ha influito proprio nella mia vita anche in quella di Axe cioè il nostro film preferito siamo i fratelli Goonies per la nostra fanbase e quanto ha influito ha influito tanto perché è stata la prima volta che i perdenti erano gli eroi della storia erano cioè era proprio c'è un velo di I don't give a fuck certo cioè non me ne frega niente di quello che dicono gli altri tutto il pro-life capito di questo è un proprio una vera stima in se stessi a prescindere da quello che dicono gli altri che poi ha influenzato veramente la mia vita non solo il mio essere musicista i Goonies sono il fin della vita e poi c'è un messaggio dentro che è veramente non abbandonare mai il tuo bambino interiore perché ti può salvare la vita questa cosa l'ha detta anche Axe più volte ed è l'interpretazione che veramente una volta che ci arrivi ti svolta no? così tutte quelle volte che ti dicono ah sei immaturo sei ah sei ancora non sei ancora cresciuto ma è giusto così è giusto così l'innocenza meglio essere adulti che sono ancora un po' bambini che dei bambini che sono già vecchi esattamente e in questa domanda attenzione mi voglio collegare un'altra cosa il disco come abbiamo detto è pro-life quindi parte dall'inizio da quando tu eri da quando tu non avevi il successo che hai avuto poi nella vita e quando ovviamente la tua vita la vita familiare la tua mamma e con tuo fratello stavate in una situazione cioè quella prima del successo è una cosa che sento molto presente in tutto quello che hai detto fa parte dei ricordi belli fa parte di una fase di crescita fa parte di un bisogno comunicativo del ricordare a una nuova generazione che anche dalla merda si può uscire a testa alta oppure la domanda cattiva è vuoi far vedere che sei meglio di chi dice che ce l'ha fatta dimenticando le proprie radici no non gli darei un'accezione negativa nel senso non l'ho fatto con lo spirito di rivendicarlo come per dire ah io quindi io si tu no cioè questo no di sicuro un insieme di tutto quello che invece hai detto prima perché è un po' ricordare a me stesso e quindi nel dovermi raccontare anche agli altri chi sono da dove vengo e anche un modo per per comunque ricordare il valore di quello che ho fatto di quello che faccio di tutto un percorso no quindi il fatto di essere partito da lì essere partito senza niente arrivare a quello che volevo è sicuramente un valore un messaggio positivo ma più che pensare nei confronti di quelli che invece lo dicono ma non lo sono nei confronti che magari nella stessa situazione magari si sente solo si sente sperduto e dice no non posso farcela invece il messaggio è quello sì ce la puoi fare io ce l'ho fatta io io sono come te ce la puoi fare anche tu è quello che diciamo sempre anche noi ci siamo riusciti noi quando uno si dà un focus e continua a battere il legno lì prima o poi lo rompe senti una cosa visto che lui parlava della tua infanzia degli arbori il primo ricordo che hai di te in cui nella tua cervellina si è formata l'idea ecco io sarò grido quando è nato grido grido è nato quando avevo 12 anni quindi adesso questi cazzo di anni sono passati botto è nato in un ero alle medie e c'era un un ragazzo mio chiarissimo amico che si era appena trasferito e nella scuola non gli parlava nessuno durante l'intervallo cioè erano anzi dopo la pausa pranzo erano tutti che giocavano a pallone erano tutti in cortile in piccoli gruppi così lui era da solo sotto un albero con un block notice e stava scrivendo delle robe io sono andato da lui e gli ho detto oh bella dai mi dispiace che sei qua da solo così per conoscerlo cosa stai combinando e lui mi fa guarda sto scrivendo delle robe stava scrivendo un testo rap ha creato grido e chi era? e lì ho detto lui Sen si chiama adesso il mio caro amico vive in Thailandia ormai e lì ho detto cioè veramente lì lui era per tutto il resto della scuola lo sfigato per me quando ho visto cosa stava facendo quando mi ha tirato in mezzo mi è sembrato il più figo della scuola capito? e quindi siamo diventati i due sfigati della scuola che invece di giocare a pallone e fare gruppo sulle altre cose si mettevano lì e si sentivano siamo riusciti a far proiettare dalla nostra professoressa d'italiano fa la cosa giusta in quegli anni cazzo si ti facevano vedere solo robe pallosissime noi l'abbiamo convinta grande popomera quelle cose lì uovo sodo parallelamente e lì comunque è nata l'idea di dire cazzo posso fare questo nella vita poi si è concretizzata molto più avanti dopo tutto il periodo quello della gavetta che adesso ormai anche la gavetta è pubblica all'epoca la gavetta era veramente gavetta cioè non lo sapevi tu e i tuoi venti amici che erano venuti a vederti nel locale dove facevi la serata gratis e quindi sono passato mi sono prima avvicinato al writing dipingevo già mi chiamavo grido taggavo grido e poi negli anni comune di milano è tutto in prescrizione il mio consiglio il fatto di quello che mi hai raccontato della scuola è parallelo anche a quello che è successo a me a Barlow in realtà perché poi chi ascoltava il rap all'epoca guarda che non esisteva ma penso che era paradossale cioè eri sfigato se ascoltavi il rap adesso sei sfigato se non lo ascolti adesso per noi non sono mai andati via gli anni 90 io e lui siamo ancora vestiti i baggy e lui si è riscoperto grange oggi però prima si prima prendevi gli schiaffi se andavi coi baggy ma proprio gli schiaffi fisici adesso se non ascolti il rap sei stronzo si sei fuori a parte che vabbè sei un po' mischiato tutto cioè il pubblico del rap è strano perché visto da fuori si tende a settorializzarlo in realtà se poi parli con chi lo ascolta ascolta anche molta altra roba ma non so sicuramente diversamente da quanto immaginano molto e quanto fanno pensare alcuni artisti alcuni artisti dicono eh vedi guarda c'è una gran fan base ascolta solo me perché io sono duro puro faccio l'app invece magari il pezzo dopo in playlist è robazzi e va benissimo così e va benissimo così anzi vabbè ma ragazzi c'è una musica a 360 gradi non ti puoi fossilizzare ad ascoltare una roba sola sei limitato mentalmente se fai una cosa magari c'è una cosa tipo io ascolto tantissima musica poi mi rendo conto che al di là del rap poco riesce a colpirmi a stimolarmi veramente a emozionarmi quindi comunque il rap rimane il genere preferito che mi piace di più ascoltare ma poi ascolto anche altro certo poi si fanno di bianca e lavorano in nero è un gioco di parole con questi due colori eh sì assolutamente sì che sclero questo è quello attento della cucciolata è quello furbo mi sa che senti la roba ritornando al discorso di prima che tu non hai filtri come sei sei come non sei e quello che vivi si rispecchia nella tua musica la parola del giorno è pro-life in questa live oggi sì però è molto bella e non è una stronzata perché noi sappiamo che tu hai fatto un bellissimo progetto con la Croce Rossa con la Misericordia sì che è una che è un pugnale che usavano i cavalieri per darti il colpo di grazia non credo che sia quello però va bene c'è il pugnale si chiama Misericordia è vero non so se l'associazione è giusta però esiste questa cosa sì la Misericordia che è un ente che comunque aiuta la Croce Rossa nel senso che mi sono accorto che esatto che non ci sono abbastanza ambulanti cioè quello che lo Stato dà per questo servizio non è abbastanza e quindi il servizio riesce ad esistere grazie anche a tutta una serie di enti di volontari con la propria macchina le carriole o che comunque mettono insieme i mezzi per poi riuscire ad arrivare ad avere un'ambulanza in dotazione e le gestiscono i costi la manutenzione e tutto quanto sì ho fatto una notte surreale con loro ma poi ho fatto anche altri due contenuti in due contesti totalmente diversi una è una comunità di accoglienza per ragazzi usciti dal beccaria beccaria in carcere sì sì minorile esatto e c'è questa comunità Vimodrone che si chiama Kairos in cui ci sono ragazzi appunto che hanno avuto problemi con la legge o anche semplicemente problemi familiari abbandoni borderline eccetera gente esatto borderline e ho passato un'intera giornata lì con loro poi sono stato a Scampia in questo centro culturale Gelsomina Verde si chiama che comprende dentro se non sbaglio più di non ricordo se sono 13 o più di 13 attività c'è una palestra che insegna karate c'è una scuola di danza c'è una biblioteca proprio fatta nel centro di Scampia cioè proprio dove tu dici ok qua c'è solo male invece lì proprio loro ci tengono hanno un senso del territorio incredibile e veramente un potere simbolico nel farlo lì e questo centro tra l'altro è stato ricavato da una scuola stai parlando con chi l'ho avviato mi hanno raccontato un po' tutta la storia e quella era una scuola che è stata abbandonata perché non c'erano più iscritti per anni è stata in mano la camorra è diventato prima un deposito di armi e poi è diventato quindi hanno tirato giù tutti i muri dentro cioè c'era veramente un disastro poi quando hanno spostato il deposito delle armi quello era diventato praticamente lo smazzo principale di eroina bene e c'erano le stanze proprio per gli eroinovini il tipo mi ha detto che ci hanno messo due anni a ripulire dalle siringhe da tutto tutto lo schifo che c'era dentro e hanno fatto questo centro qua e sono stato anche da loro quindi attività diversissime però io volevo raccontare le persone che ci sono dietro esatto quindi ho creato questi contenuti andatevi a vedere sulla mia IGTV qualcosa hashtag qualcosa di buono Instagram TV quindi non in altri pari non hai no l'ho voluto mettere solo lì per avere proprio catalizzare catalizzare il contenuto lì no ragazzi una cosa importante come il film che hai fatto proiettare do the right thing fare la cosa giusta no in questo caso tanti rapper non la fanno se ne sbattono pensano solo ad arricchirsi fare i soldi fare hype vendere ma anche perché sai che cosa è nato per quello anche sì ma perché poi nella tendenza di adesso c'è molto macismo e se tu appunto il fare qualcosa di buono il fare il lanciare un messaggio positivo viene subito confuso con il buonismo no sì viene confuso con quello e molti invece dicono io non ho bisogno di essere buono io sono malandrino invece secondo me non c'entrano proprio niente le due cose tu puoi veramente cercare di fare qualcosa di buono senza essere populista e buonista anzi appunto le persone dei posti dove sono stato che c'hanno c'hanno due coglioni sotto così erano tutto tranne che buonisti no ma il discorso è questo perché poi c'è tra essere un anti-eroe e essere un eroe negativo c'è una grossa differenza un anti-eroe è uno che riesce anche a fare la cosa giusta senza essere buonista perché poi i buonisti sono quelli che ti denunciano se metti like a sesso dog e basta no ma poi i buonisti molto spesso fanno fanno tanto discorsi ma poi non fanno niente io nel mio piccolo anche con queste robe qua ho cercato sai di ti dicevo prima io ho tirato un po' di somme io comunque mi sento fortunato ho ricevuto tanto dalla musica dalla vita fare questo tipo di cose o comunque anche lanciare questo tipo di messaggi è un modo per restituire un po' certo la fortuna che ho avuto dalla vita mi sento di mettere in pari le cose non mi sentirei totalmente a posto con la mia coscienza ma è figlio infatti anche io e lui sai ogni tanto andiamo nelle scuole a parlare anzi il 3 dicembre saremo in una scuola che poi vi diremo bene qual è sì perché non ricordo siamo andati a Genova da principe in un centro dove loro raccolgono tutti i beni alimentari o anche solo materiale didattico per l'Afghanistan la Siria tutti quei paesi dove ci sono le guerre comunque adesso non stiamo nello specifico quindi è una cosa che bisogna fare bisogna fare è una figata ma anche far vedere che lo fai è una figata perché purtroppo ed è questo stato lo scopo di questi miei contenuti del cercare di raccontare come ero arrivato a quella canzone purtroppo io mi sono accorto che non proprio non se ne parla non è che alla gente non interessa sembra veramente un argomento minore parlare di questo tipo di realtà questo tipo di sentimento da parte delle persone invece è pieno è pieno il mondo solo che i riflettori la luce sono tutti da un'altra parte e invece cazzo bisogna parlare di queste realtà bisogna bisogna non dico glorificarle però veramente portarle all'attenzione delle persone io sono stato poi al mio vecchio liceo a portare questi contenuti ho parlato per tutta la mattinata con i ragazzi e lo vedevi che cazzo erano attenti che stavano scoprendo questa cosa esatto ma perché nessuno glielo aveva mai detto prima perché ormai tendiamo a essere pessimisti a dire ok fa tutto schifo società è una merda allora ti abitui a quell'idea tra lo schifo non cambia mai tu volevi leggere una domanda no 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 stavo pensando a quanta politica venga fuori anche semplicemente da dei progetti così che per molti persone diventano semplici molti non vengono come dicevi tu nemmeno dichiarati perché hai paura di essere buonista ma a un certo punto quando tu aiuti un'associazione che non ha le ambulanze me ne sbatti i coglioni del buonismo cioè puoi dire quello che cazzo scusate puoi dire quello che vuoi però raga io sto io credo in una causa e porto in alto al massimo questo mio credo ed è giusto ed è politico ed è una presa di posizione ormai la politica la fanno le persone noi abbiamo una classe politica che non fa più politica da non so quanti anni quindi anche il termine stesso di politica si è confuso è diventato polo reale politica del popolo ragazzi sa che pensano che rapper politica sia dire vaffanculo Salvini ogni tanto invece questa è la roba che va fatta sul sociale aspettano sempre che qualcun altro risolva i problemi quando nessuno poi imprimi se si mette se non cerchi di risolverlo fai parte del problema ecco esatto di questa concezione esatto esatto fine allora bravo Grillo quindi ricordiamo come si chiama sulla sua Instagram IG qualcosa di buono qualcosa di buono ci sono tutte così come la canzone però scritto tutto attaccato allora io ho due domande scegli tu quale vuoi rispondere ma nel senso che me le dici tutte e due e rispondi a tutte e due Grillo se potessi scegliere di avere le valità artistiche di un altro rapper che senti che ti mancano chi sceglieresti non vale dire nessuno oppure Grillo ci parli dell'hip hop milanese degli anni 90 tipo il muretto DJ Enzo 16k i freestyle eccetera allora parto da questa che è momento nostalgia ah ma ecco dove vai era una figata era una figata io prendevo la metro da Cologna arrivavo fino a lì quindi ti saliva ti saliva anche l'adrenalina non ha la voglia di arrivare lì e arrivavi uscivi dalla stazione della metro arrivavi al muretto ed era veramente un angolo dove stava succedendo qualcosa di alieno rispetto a tutto il resto della società si giocava il mondo intorno si ti sentivi veramente dentro ad un film DJ Enzo poi c'è dal giorno zero io poi appunto l'ho visto lì bella Enzo l'ho visto lì le prime volte mi sembrava un essere mitologico poi ho cominciato a lavorarci insieme a conoscerlo siamo diventati compagni di crew sono tornato 90 anch'io con la burriola ancora più su così mi sembro però uno di quelli e no e comunque appunto cioè con gli anni lì era una era veramente una figata poi c'erano anche lì gli scazzi le antipatie rivalità però io ricordo che c'era proprio lo spirito di cioè ti riconoscevi eravamo veramente in pochi ti riconoscevi dall'altra parte della strada e c'erano io mi ricordo in metropolitana magari vedevo uno vestito un po' così da rapper cazzo allora magari tiravo fuori dallo zaino il mio book con le bozze cercavo di far capire anch'io che ero che ero un writer cercavo di trovare un punto di collegamento e infatti ho conosciuto un sacco di gente grazie a questa cosa ed era un po' c'era una succursale di tutto ciò poi in un certo in un certo lasso di anni che è stata l'anfiteatro del Parco Sempione c'era gente c'era il muretto ma poi c'era anche la domenica un ritrovo gigantesco poi lì si mischiava anche alla gente con i bonghi a tutte altre derivazioni della cultura urbana però anche lì poi ho conosciuto un sacco di writer c'erano quindi c'era una coscienza collettiva e un periodo di vita collettivo dove siete cresciuti tutti quanti insieme quindi c'era un periodo no ma poi c'era questo sentore di che figata stiamo facendo qualcosa di stiamo vivendo in prima persona le prime pagine di un libro ma voi sapevate che questo divenire sarebbe stato così florido o in quel momento non eravate coscienti e stavate soltanto costruendo qualcosa per voi no stavamo cercando di costruire qualcosa per noi e stavamo certo lo speravamo che questa cosa arrivasse a più persone possibile perché appunto vivevi sempre quel contrasto di cazzo che figo il rap cazzo che figo i graffiti che figa la breakdance e poi però rimaneva lì non arrivava e quindi tutti dentro di te dicevi ma perché le altre persone non ci arrivano ma anche se la breakdance cazzo anche che è quella che secondo me può attirare di più chiunque anche uno infatti a livello sai cosa in Italia siamo non per i break perché ci sono delle crew che spaccano però poi hanno riconoscimenti e modo di farsi vedere più all'estero che in Italia in Italia dal punto di vista della breakdance per quanto riguarda quello che viene organizzato cioè per l'hype che c'è intorno siamo sempre rimasti un po' in sordina negli anni poi magari avevamo chi vinceva c'era l'italiano che vinceva il BC1 la competizione mondiale noi abbiamo fatto da disturbatori tra virgolette a un contest a Red Bull lì a Milano e io ho visto gente che poi ho beccato anche quando ah quando sono andato a vedere Tormento a Torino che hanno fatto i dieci anni di riunioni double struggle da gente da Genova da tutte le regioni stiamo lì all'elencare ma forti ma anche già negli anni 90 noi avevamo gente fortissima ma è rispettata dalle si fighting soul poi vabbè c'era un Maurizietto cioè c'era gente che veramente aveva il rispetto e i props dagli americani che hanno iniziato a fare sta roba quindi invece in Italia è sempre rimasto un po' si ok bello però dal punto di vista della massa era un po' il fenomeno un po' però vabbè c'era la Black Death pettoresco invece dietro c'è una tecnica un'arte uno studio c'è una danza è la danza è la danza è marziale è parkour è ninj ma poi ci vuole una preparazione fisica poi tutta la cosa è basata sullo stile sulla sfida cioè le sfide di breakdance hanno anticipato anche quelle di freestyle qua in Italia ed è quel concetto lì del ci sfidiamo ti vengo a fare i passi provocatori e poi ci stringiamo la mano quando è finito il cerchio cioè è fighissimo è una roba ma stiamo parlando di atleti atleti gheri sì sì che erano giovani e molte volte erano totalmente autodidatti sì e non era facile come adesso trovare trovare spunti input ma neanche su non c'era YouTube all'epoca quindi o cassettine sì sì cassette che dovevi pure fatica a trovare a trovare come dall'estero che gli stai non c'erano o andavi a New York sì sì sei andato a fare il rapper a New York? a fare il rapper? no sono andato a New York sì c'erano ancora le torri gemelle quando ci sono stato io pensate stiamo parlando un bel po' di anni fa eh figa New York vorrei tornarci adesso ricordami lì THG abbiamo girato veramente tantissimo ne ho speso tutto quello che avevamo anche quello non c'erano i vestiti figa siamo arrivati lì e ci sembrava la mecca del nostro cioè lì andavi veramente anche nel negozio normale c'erano le robe che da noi erano quelle da repettare noi dovevamo comprarci i pantaloni e stringerli eh sì c'era la mecca c'era anche la marca sì senti aspetta c'era la seconda domanda che sennò sembra che non voglio rispondere quella come che era sì era quella le vellità di qualche rapper che non hai sì che molto autocritica come domanda non è brutta no no è bella infatti per quello però non lo so aspetta chi è che chi è che potrebbe essere che ha qualcosa che non ho io ce l'ho però ti sta sul cazzo non lo dirò sì no no un rapper bravissimo fortissimo vabbè ce ne sono bravi forti però non so se io vorrei fare quella roba lì eh quello è un problema perché poi la velleità ti porta a essere quella persona capisci perché non è cioè sai che sinceramente non è che non voglio rispondere alla domanda non lo so non ce l'ho un nome che dico cazzo figo lui vorrei fare io la roba così perché altrimenti un mista sarei un clone oppure no è un mista ma tra l'altro l'ho beccato qualche giorno fa ma io lo voglio invitare ma non è un disco nuovo è fortissimo l'ultimo uscito tre anni fa ha fatto un pezzo adesso nuovo qualcuno non l'ho ascoltato rock beats rock beats ed è forte lui è forte è bravo preferiresti essere un grido sottosteroidi piuttosto che essere qualcun altro sì preferirei gustare ancora di più quello che so fare andare alzare ancora di più l'asticella piuttosto che essere qualcun altro non c'è nessun altro secondo me vorresti essere uno della FSK sì ha ha la fishball la fishball non posso rimanere frizzato dai sì no senti un po' però sai che a me non dispiace quel tipo di ma ha la sua potenza iconica tutta quella roba lì però è veramente un viaggio talmente lontano dal mio che non ci vedrai mai certo sì sì sicuramente immagino però invece di tanta gente che viene che critica quel determinato tipo di di mondo secondo me non si sofferma a pensare che gli stessi che criticano la FSK fanno le stesse identiche cose e poi diventa l'italietta capito cioè mi nervosisce ma io guarda ma proprio per questo io ho imparato a non criticare a priori anche perché poi all'inizio sai torno all'inizio di gemelli diversi può fare no no ma poi è veramente una cosa su cui con cui io noi la Spaghetti Funk ha dovuto combattere per anni questa cosa del ah sì vabbè voi siete ah voi che parlate sulla musica voi non siete veri musicisti non siete veri cantanti non siete veri autori e questa cosa è il criticare a priori ma perché sulla base di cosa lo dici quindi io magari ovvio non c'è roba sarà anche una cosa legata anagraficamente a chi sono io ma non c'è tantissima roba che mi fa gridare wow nel panorama della trap però non critico la trap a priori non dico come fanno altri la trap è musica di merda c'è trap di merda c'è trap fatta bene c'è trap fatta per emulazione svuotata dai contenuti che copia solamente quello che è il trend di quel momento e ce ne sono tantissimi tantissimi ma c'è anche chi ha qualcosa dietro e lo apprezzo quindi poi magari non è la canzone che mi metto in playlist e l'ascolto per il piacere di ascoltarla però non la denigro riconosco il merito riconosco che c'è molto di più di quello che i mezzi di informazione chiamiamolo così ci fanno pensare riguardo a certa roba ho capito i mezzi di informazione quali sono l'ho capito no senti una cosa no scusa fate io avevo una domanda importante me la preparavo già un po' mi presti mille euro no se Grido fosse nato nel 2000 non ce li ho faccio postatato è andata male se Grido fosse nato nel 2001 quindi avresti 18 anni adesso avresti fatto rap è che domanda è una domanda pesante perché all'epoca erano una cariola perché all'epoca ti sei innamorato di una cultura però erano altri tempi e c'era bisogno di comunicativo differente di adesso che però anche adesso c'è un bisogno comunicativo ma viene veicolato in maniera differente con la tua personalità forse eh non lo so visto che adesso va di moda e tu eri fuori dalla moda adesso magari eri un punk beh forse sì forse avrei fatto qualcosa di controtendenza in questo momento quindi o almeno di 4 anni fa perché comunque questa perché 14 anni no sarò in 2001 eh sì non lo so probabilmente sì nel senso che questa roba mi fa comunque innamorare tuttora magari avrei fatto più fatica nel senso che è cambiato molto il rap cioè io mi sono innamorato di sta roba veramente da Iran di MC da un suono totalmente differente da un suono totalmente diverso da un immaginario totalmente diverso da quello che è adesso sì o che era comunque 10 anni fa quindi non lo so se il rap di quel momento mi avrebbe fatto innamorare nello stesso modo di quando ero ragazzo di quello che c'era quando ero ragazzino e poi la componente del controtendenza del fare qualcosa che è una nicchia sicuramente sarebbe svanita però anche all'epoca io non lo facevo perché faceva figo perché eravamo in quanto a farlo quindi non so quanto è inserito quello non era hipster come mentalità esatto lo facevo perché mi piaceva punto poi il fatto anzi il fatto che fossimo in pochi e che la cosa stava crescendo diventava un amplificatore dell'emozione ma non era per quello non era per ah ok voglio far parte dell'elite esclusiva mi piace anche perché era una elite di merda anche perché era una elite di merda era una vita di merda assolutamente infatti ci siamo tra virgoletti scelti la passione sbagliata la passione giusta nel momento sbagliato esatto 500 figa lui dice guarda sono senza il portafoglio secondo te io vengo qua con i soldi qua nella tana del lupo bravo bravo Petrus ragazzi Petrus mi chiede dici i tre pezzi che non possono assolutamente mancare nella tua playlist ma miei no nella tua playlist possono anche esserci i tuoi gente che roba che ti pompi tu pezzi preferiti però diventa anche americani però diventa sempre se mi dici che non possono mancare a me vengono in mente solo robe old school perché il valore di quella roba allora un ragazzo giovane di 14 anni che ti chiede grido io non ti conosco artisticamente voglio sapere perché sei innamorato del rap dimmi tre pezzi che mi faccia innamorare del rap è difficile che però un ragazzo di adesso si innamori con quella roba perché c'è gente che dice che Tupac è noioso però vuole sapere lo so lo dicevo anch'io sai che lo dicevo anch'io tu come fai anch'io dicevo che era noioso Tupac è vero però adesso l'ho riscoperto esatto perché non avevo sentito i pezzi giusti di Tupac però ma di Tupac va bene la discografia Ghetto Gospel Tag Mansion The Armama esatto un ragazzino di adesso come fai a dire oh veramente ti vuoi innamorare di questa roba ascoltati The Armama vivono vivono la musica con un ritmo diverso non so per notarli vabbè Hypnotize tre titoli B&G adesso basta rimango nella roba totalmente old school no adesso devo cercare qualcosa che non c'entra col rap posso vale assolutamente vale no Green Day Green Day a partire vabbè ti direi Basket Case così perché devi saperlo esatto però se no anche vabbè tutto American Idiot American Idiot molto bello American Idiot l'ho riscoperto da poco tutto 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 il disco e Limbiscuit viva la globa vabbè figo c'è stato tutto un un generation c'è stato tutto un momento che i Limbiscuits erano veramente potentissimi io volevo essere i Limbiscuits erano la rivoluzione in quel momento raga pericolo paparocci Limbiscuits cazzo i vari Mario crossover più di no per favore no il più di no il D.O.P. anche il D.O.P. beh che idrocca anche dai che idrocca è grande è grandissimo hai libri che scusami che stavi disfinendo perdonami abbiamo detto Hypnotize Hypnotize di Armama è un pezzo allora se ne devo scegliere uno ma per il valore affettivo Basket Case The Green Day se no 21 Guns American Idiot qualunque pezzo in quel disco minorità mi piaceva The Green Day però era il disco quello però era anche il momento difficile dei Green Day infatti mi piacevano hai dei libri che ti hanno aiutato per quanto riguarda la tua formazione personale letteratura e non formazione no perché quando leggo libri mi piace leggere proprio veramente roba che mi fa volare con la fantasia tipo Ready Player One ragazzi è il libro più bello il libro dici? sì sì il film è un'unghia cioè questa persona è il libro il film che è comunque bellissimo un capolavoro carino bellissimo era stato buonissimo è un'unghia è un'unghia del libro il libro se lo leggi vai fuori di testa bro posso chiederti se affronta di più la solitudine del ragazzo perché quello che manca nel film è la solitudine affronta anche di più tutto il contesto socio-politico cioè tutto il primo capitolo che è abbastanza lungo anche serve solo a spiegarti perché lui è ateo e metterti nella sua già nel film se ne sono stati criticati tutto ciò il film dura tipo tre giorni la trama il libro dura tipo cinque anni facendoti un antefatto di dieci anni mi stai mettendo lo stipendio ho preso il Kindle me lo scarico ma poi da nerd ci sono dentro tante di quelle citazioni così che il film è niente perdoni senti un po' tu da nerd io te la volevo buttare lì forse te l'ho già buttata lì una volta movimento chiptune movimento chiptune perché visto che tu stai cercando e da questo CD si evince un rinnovamento senza tradire le origini la chiptune è musica elettronica fatta esclusivamente o comunque con fortissimi richiami ai suoni Nintendo e Game Boy Sega Master System vecchie console la musica chiptune viene creata dai suoni delle vecchie console che utilizzano i sedi classici dai 16 agli 8 bit per essere suonata e normalmente si produce con il Game Boy con una piccola modifica io vorrei un pezzo dove tu tiri fuori tutte le tue nerdate su un bit chiptune così puoi fare tutte avevo fatto un pezzo avevo fatto un pezzo che partiva da stare penso alla mia ignoranza non sapevo neanche di questo tutte le tue punchline sulle nerdate che sai a tema su vedi questo è un Game Boy modificato ovviamente puoi mettergli RCI ho messo il jack c'è la retroilluminazione che non c'era è stata modificata e in varie cose ci puoi mettere anche gli envelope in realtà suonandoli in link diventano perfettamente ma che figata vabbè comunque ti dicevo avevo fatto un pezzo che si chiama videogame che era partito con questo concetto poi però è stato riarrangiato l'hai camuffato sì l'ho reso più però secondo me puoi fare un piccolo EP e ti divertirei un sacco solo per cazzeggiare perché questa è una roba che no mi hai aperto un mondo sicuramente vado a scavare esprime veramente tanto il tuo nerdismo cioè tu che sai un sacco di film citazioni anche i libri sono sempre i libri nerd eccetera eccetera questa roba qua che si chiama cifti un 8 beat eccetera poi se vuoi noi conosciamo un sacco di produttori che fanno sta roba e puoi fare le tue neppate su quella roba lì eh ma perché comunque guarda che altra cosa all'inizio il nerd adesso un po' è cambiata adesso il nerd era lo sfugato adesso comunque sei un po' no scusa guardami dai gli occhiali un attimo ti faccio vedere il nerd cos'è adesso no oh sto a casa stasera Netflix e pizza no i nerd non scopano i nerd non hanno vita sociale non hanno i like non è vero no no sono sfigati i nerd vengono pesi a pugni e sicuramente non sono fregne con le tette così i nerd sei solo un attention una persona in cerca di attenzioni che ha trovato un paio di occhiali non sei un nerd comunque secondo me appunto nerd prima era solo sinonimo di sfigato si ti piacciono quelle cose che non piacciono però cervellone anche sfigato secchione invece adesso sono cioè io invece lo vedo più come una categoria di persone sensibili e attente al mondo più degli altri infatti Ready Player One che può sembrare una nerdata invece c'ha dietro tanta di quella di filosofia di critica sociale di veramente di riflessione sul mondo che invece manca a libri di filosofia infatti mi hai già parlato di fantapolitica io non sapevo questa cosa mi sto già tricando questa era una cosa perché perché ritornando al tuo disco era il discorso che ti dicevo prima delle basi cioè testi pesanti che fanno riflettere positivi pro-life ma senza essere nascondersi dietro un dito e io cazzo io ti sentirai proprio a bomba su una roba così elettronica super nerdosa che proprio è la tua personalità è la vabbè comunque sotto di tutta questa live cari produttori del disco a Barlo piacciono i testi no ma non piacciono le basi no no perché mi metti in bocca a parole che io non ho detto no no l'hai detto tu ti ho sentito sicuramente mancano delle chitarre e delle batterie heavy metal allora io voglio ringraziare Luca abbiamo finito è passato un'ora quando stai qua stasera io c'ho la vita stai qua a chiacchierare quando fai quando fai le cose belle finiscono in fretta però io ti guarda ti spingo a informarti su tutta la roba chiptune perché in Italia è un movimento nuovissimo nuovissimo nato da meno dieci anni che era un po' una roba che mi ha fatto innamorare visto che abbiamo parlato un attimino di cose di feels è una roba che mi ha fatto innamorare perché si suona ancora nei piccoli centri sociali è una roba fatta da poche persone veramente pochissime messe male 15-20 persone veramente messe male non comunicano con la gente li conosciamo tutti e vi vogliamo tutti bene ragazzi togli apartaments a rotte in beat a rotte in beat a rotte in beat è arcorissimo però devo googolare e loro con i Game Boy fanno delle magie vabbè ma che figata è poi il fatto che sia fatto col Game Boy perché c'è un software creato da un ragazzo che è un matto sequencer che funziona solo su Game Boy e ovviamente su PC dove c'è l'immigrazione e ti dico che è vabbè a parte questo io ti ringrazio per essere stato qua grazie a voi ringrazio i ragazzi che ci hanno seguito per tutti quelli che hanno fatto la sua iscrizione mi dispiace non aver letto tutte le domande erano anche tante e interessante però la roba del fratello non ce ne frega un cazzo ho già risposto mille volte abbiamo parlato di mille cose interessanti ci siamo divertiti il disco è figo dovete ascoltarvelo ve lo dico io manca FS nel titolo sto giro SF FS però è vero manca sai che ci ho pensato in realtà quando gli ho dato il titolo ho detto cazzo però sto giro qualcuno mi dirà che non c'è SF è arrivato va bene e tanta gente che dice grazie per i titoli che gli hai dato che molta gente li conosce sto facendo una carrellata e adesso mi sono perso qualcosa di importante c'era quello mi sta sul cazzo grido i gemelli ancora quanti cazzo di anni sono passati c'è uno che mi chiede però comunque ho fatto pace con fibra ho fatto pace anche con marro l'abbiamo detto prima è l'anno della pace cosa ne pensi delle tassidermie e se volessi una testa di cinghiale ma stai facendo finta io ho paura di chi ti ha scritto una testa di cinghiale impagliata da mettere in casa sopra il caminetto no ciao Fabri grazie per la regia ciao 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 ciao